In questo momento sinceramente c'è stato richiesto uno sforzo e questo sforzo noi lo abbiamo fatto. Di più vedo difficile che si possa migliorare il servizio. Il presidente provinciale dell'ordine dei farmacisti Marcello Milani così riassume il momento particolare che la categoria sta attraversando alle prese con un incremento esponenziale delle richieste di tamponi rapidi per far fronte se non vaccinati all'obbligo di esibire il green pass per accedere al posto di lavoro. Noi abbiamo più che raddoppiato siamo arrivati a oltre 10.000 a 10.000 tamponi al giorno in Fiori Venezia Giulia e Trieste in particolare io dividerei per tre quindi tra i 2.500 e i 3.000 tamponi al giorno. Una mole di lavoro che le farmacie smaltiscono per certi versi più rapidamente rispetto a qualche mese fa quando dovevano rilasciare l'evidenza scritta del tampone negativo ma che pone una serie di problemi che hanno a che fare con la rete. Il green pass è richiesto per gli ovvi motivi che sappiamo. Di conseguenza è aumentato il flusso di persone che entrano e il problema nasce a valle nel senso che una volta fatto il tampone noi siamo ovviamente obbligati a mandare i dati al ministero e il ministero poi è lui che rilascia il green pass. E questa autostrada informatica ovviamente si è intasata perché se avevamo un certo numero di tamponi al giorno in tutta Italia oggi siamo arrivati solo dalle farmacie S700.000 al giorno. In realtà l'evidenza cartacea è prevista per sostituire provvisoriamente il green pass qualora appunto non si faccia in tempo a scaricarlo stante le problematiche di cui sopra. Ma in questo caso il rischio è che il lavoro del farmacista si intasi senza considerare la possibilità che la persona in attesa del riscontro risulti positiva. Succede che uno fa il tampone in farmacia poi se ne va e attende l'arrivo del green pass direttamente sul cellulare. In questo caso invece deve attendere il risultato del tampone e di conseguenza poi la stampa del documento. Ci sarebbe un altro fronte, quello dell'influenza stagionale. Io non abbiamo ancora notato un incremento della richiesta di farmaci anti-influenzali o comunque sintomatici per l'influenza. E' anche un po' presto tutto sommato perché abbiamo avuto un ottobre molto clemente e quindi non c'è stata la necessità, non ci sono state infreddature o altre malattie di stagione. Giova a sottolineare che in questo caso l'utilizzo delle mascherine, del distanziamento e dell'igienizzazione delle mani gioca un ruolo fondamentale per bloccare i contagi.